buongiorno oggi vi presentiamo questa vettura nuova nuova significa ancora da immatricolare perciò non è né chilometri zero né aziendale ed è una giapponese una piccola japp un 1.5 90 cavalli ibrido ed è una mazda 2 allestimento xeed molto bella anche con questa tonalità di grigio scuro cerchi in lega da 16 pollici piccola ma molto spaziosa internamente e adesso andremo a scoprirla ad iniziare dal bagagliaio molto ampio e spazioso con sedili posteriore sdoppiabili interno in tessuto molto belli molto rifiniti tipico di una giapponese 4 vetri elettrici e come potete notare lo spazio per le gambe per i passeggeri posteriori e ampio e anche per la testa questo significa che tre persone anche di statura medio elevata stanno comode belli sediti i sedili sagomati anteriori e la plancia beh che dire è un'opera d'arte con queste cuciture a vista morbida al tatto scusate il cielo ferma una vettura nuova perciò ancora alcune parti in cielo fanate comunque queste inquadrature servono a farvi capire che gli specchietti si chiudono elettricamente anche in automatico oltre che essere elettrici sbrinabili vetri elettrici anteriori e posteriori il sedile regolabile in altezza tutti i sistemi di ausilio alla guida dal lane assist start and stop controllo pressione pneumatici e esp climatizzatore automatico con comando manuale cambio sei rapporti la vettura è un keyless perciò con chiave ve la tenete in tasca o nella borsetta schiacciate semplicemente questo tasto e si accende tutto il quadro strumenti oltre che anche l'head up display che si alzerà una volta in moto molto sportiva con questo quadrante circolare centrale la vettura non è dotata del navigatore satellitare ma dell'apple car play android auto comunque del navigatore satellitare si può anche aggiungere perché abbiamo altre disponibilità di colori notate la radio tutte queste cose qui le spostiamo con questo joystick centrale i comandi del cruise control del viva voce bluetooth e dell'autoradio lo specchietto interno che è fotocromatico perciò soscura automaticamente a seconda dell'intensità della luce proiettata dalle vetture che sopraggiungono posteriormente anche i fari sono all'attivazione automatica come i teggi cristalli volante in pelle molto bello molto piccolino questa vettura vi dà una grande sensazione di sicurezza ma non credete a noi venite a provarla ovviamente sempre previo contatto telefonico così sarete certi che la vettura se è ancora disponibile vi diciamo di venire a provare così assaporerete anche le prestazioni di questo piccolo motore con 1.590 cavalli con l'ausilio ibrido della parte elettrica appunto per farvi inquinare meno e consumare meno però almeno capirete proprio su strada questa vettura la qualità giapponese di cosa si parla riassumendo mazda 2.590 cavalli hybrid allestimento exeed vi aspetta qui da noi qui nella nostra sede di secuniago ricordatevi di contattarci prima di venire per provare la vettura visionarla sedervi e toccarla con mano perché questa vettura merita per lunghi piccoli viaggi e anche per la città vi aspettiamo e per qualsiasi comunicazione o informazione o dubbi non esitate a contattarci ad uno dei nostri recapiti sul sito internet